Salve, sono Samy da Fosysi Accademia, in questo video vi mostrerò come eliminare le ricerche e le attività di navigazione. Visitare il web e la pagina Activity App che l'attività di navigazione vengono salvati in, è possibile che venga chiesto di accedere al tuo account Google. Seleziona la casella accanto alla voce che si desidera eliminare, è possibile eliminare un'intera giornata di oggetti, selezionando la casella accanto a una data, nella parte superiore della pagina, selezionare elimina. Per cancellare tutta la cronologia, nell'angolo in alto a destra, toccare menu, selezionare elimina, quindi avanzate, toccare tutti i tempi, rimuovere, cancellare. Se si desidera eliminare gli elementi da una data specifica, premere il calendario nella parte superiore della pagina, per trovare la data desiderata, per controllare ciò che si condivide con Google, nell'angolo in alto a destra, toccare menu, selezionare le impostazioni, mostrare più controlli, on e off tutti gli elementi specifici che si desidera condividere. Per cancellare tutti i vostri Chrome e cronologia di navigazione, la tua pagina di storia, mostra i siti web che hai visitato su Chrome negli ultimi 90 giorni. Nell'angolo in alto a destra della finestra del browser, fai clic sul menu Chrome, fare clic su Storia, e le schede più recenti, Storia, selezionando la casella accanto agli elementi. E quindi fare clic su Elimina elementi selezionati, oppure fare clic sul pulsante Cancella dati di navigazione, apparirà una finestra di dialogo, dal menu a discesa. Selezionare quanta storia che si desidera eliminare, per cancellare l'intera cronologia di navigazione, selezionare l'inizio del tempo. Spero che queste informazioni siano utili, grazie per aver guardato FOS. Isacademia, si prega di come, iscriviti, condividere questo video, e visitare il nostro sito web, fos.isacademia.com Grazie a tutti.